Transizione energetica e quella culturale strettamente connessa non possono che passare dalla formazione. Questo è il senso della selezione per l'assegnazione di 30 premi di studio da 500 euro ciascuno destinati ai migliori studenti iscritti ai corsi di lauree attivi a Taranto per l'anno accademico 23-24 e di due borse di ricerca sui temi trasversali della sostenibilità, entrambe per un importo pari a 7.500 euro. L'iniziativa si avvale dei fondi Exilva, la conferenza stampa di presentazione seguita da Nicola Pastore. Direttore, sicuramente la formazione è universitaria in primo piano, una bella mattinata questa. È una mattinata di festa, direi, importantissima perché insomma Comune, Università degli Studi di Bari, Dipartimento Ionico in particolare, lavorano in sinergia per valorizzare, come stiamo facendo da tanti anni, gli studenti e anche i laureati, perché oggi andiamo a pubblicizzare il bando su queste borse di studio che è davvero molto importante. Assessore, sono fondi speciali che vengono destinati per una finalità lodevole? Sì, sono i fondi Exilva destinati a queste borse di studio. È molto importante che si scelgano ragazzi laureati e laureandi del territorio e quindi studenti che hanno scelto di rimanere a Taranto nel Dipartimento Ionico ed è importante questa collaborazione e questa convenzione con l'Università di Bari, in particolare con il Dipartimento Ionico nella quale sicuramente il professor Pardolesi ha molta parte. E quindi il Comune di Taranto tende sempre a rinnovare le convenzioni che favoriscano tutto il territorio, sia da parte di chi abita qui, sia da parte di chi venga dall'esterno e dai territori limitrofi a frequentare l'Università a Taranto. Sentiamo anche i destinatari di questa novità, Alessia Santoro. Sì, buongiorno. Allora noi pensiamo sostanzialmente che questa sia una iniziativa lodevole soprattutto per andare a far emergere quello che è il territorio, ma anche gli studenti che decidono di studiare e di rimanere a Taranto. Infatti secondo noi comunque, ma si denota da tutte le iniziative, questa sinergia tra quello che è il Comune e quello che è l'Università consente appunto una maggiore crescita non solo personale ma anche del territorio.